Contento per i tre punti? Si poteva fare di più? Si poteva chiudere prima? Abbiamo fatto complessivamente una buona gara, commettendo due errori all'occasione dei gol subiti, anche se poi abbiamo sempre chiuso bene dal punto di vista difensivo, però nelle situazioni in cui abbiamo subito due gol, calcio di rigore, conseguenza di una rimessa laterale, non esiste prendere un gol così, andare fuori tempo e fare un intervento così come abbiamo fatto in area di rigore, così come non esiste chiudere un avversario in una fascia e consentirlo di filtrare in mezzo a due quando avevamo la possibilità di frenarlo prima, però complessivamente abbiamo fatto una buona gara. A parte queste due cose, sul 3-2 la partita è diventata un pochino emotiva, abbiamo per un attimo rinunciato a giocare, abbiamo manifestato un po' di timore, però poi dopo fortunatamente, anche attraverso i cambi, ci siamo rimessi a palleggiare, abbiamo smorzato i ritmi, palleggiando e poi trovando Varchi abbiamo costruito ancora le situazioni per chiuderla definitivamente la partita, senza mai rischiare nulla. Però forse in questa seconda parte doveva essere più concreto il Pescara. A me è piaciuto molto da quando è entrata Frascatore la squadra. Sono sempre gli interpreti, oggi probabilmente non era in buona giornata, Frascatore è entrato bene, durante la gara abbiamo cambiato un paio di volte il modo di stare in campo, però senza mai stravolgere la nostra concezione del calcio. Poi quando è entrato Frascatore ci ha dato spinta perché poi loro non recuperavano più le posizioni, e quindi siamo riusciti a fraseggiare, a palleggiare, a allentare i vittimi, a non sciupare palle e a trovare i varchi giusti. Prima di dare la linea studio faccio un'ultima considerazione. Lei sul mercato è stato molto chiaro, a ieri ha detto difesa e centrocampo siamo a posto, vediamo in attacco se esce qualcuno. Ma sulle corsie laterali della linea mediana 4 è proprio contento Auteri? A destra dico. A dimanato abbiamo dei giocatori che hanno qualità, poi sappiamo, abbiamo già parlato anche di Insita, altri, oggi ha giocato Frascatore. Ma hanno fatto bene, sia Zappella che Cancellotti, anche se si può pensare di cambiare tutto. Sono giocatori che hanno la mia stima, la mia fiducia, sono giocatori allenati, fanno parte del contesto. Non credo che dobbiamo fare tante cose, se riusciremo a togliere qualcosina, ne abbiamo già parlato, qualcosina soprattutto davanti, perché siamo in tanti e poterci migliorare. Nel frattempo, e lo dico pubblicamente, sono contento anche dei miglioramenti che hanno fatto Rauti e Ferrari. Adesso è un altro giocatore, se capisce che deve evitare il terzo tocco, perché lui in quello non è bravo, però ha acquisito mobilità, sempre molto pericoloso in area di rigore risoluto, però adesso è un giocatore che sta anche bene dal punto di vista fisico, un giocatore che stiamo costruendo anche da questo punto di vista, e questo ci va bene a sperare. Studio. Studio, e allora cedo la parola a Fabio Ferraresi. Sì, mister, lei ha parlato del palleggio oggi, secondo me Pescara qualcosina senza pompetti oggi ha perso sul piano del palleggio, però le volevo chiedere se è contento della prestazione di Derisio, che dal mio punto di vista non ha fatto male. secondo tempo è cresciuto, sicuramente con il passare delle giornate sarà un giocatore importante per questa squadra. Ma non lo so, Derisio ha fatto una grande gara per essere la prima, perché ha gestito centinaia di palloni senza sbagliare mai, ne ha recuperati di altre tanti, ha subito un'ammunizione, questo un po' l'ha frenato, Derisio ha giocato un'ottima gara. Un'ultima domanda per Auteri. Vogliamo fare i complimenti, mister, lei già ieri si era pronunciato sull'avversario di turno, il Montevarchi, che già aveva fatto soffrire il Pescara nel primo tempo della partita di andata, però anche oggi senza tanti titolari, davvero una gran bella realtà. Ma è così, ho detto, loro hanno giocatori di qualità e poi stanno in campo bene, hanno un'ottima organizzazione di gioco, squadra vivace, squadra che cerca di giocarsi le partite, confermo quello che ho detto. Io prima di salutare il tecnico Auteri le volevo chiedere, 20 secondi 20 sui 5 minuti che ha fatto Delle Monache, che è un dato oggettivo che in 5 minuti ha prodotto tantissimo. È un dato, eh? No, andiamo piano. Delle Monache è un ragazzo che va a scuola in tante e deve continuare ad andare a scuola di mattina. Di mattina, quando noi ci alleniamo. Voti A, Delle Monache. No, la pagella la deve portare. È un ragazzo che ha qualità, sta facendo un percorso di lavoro, io non faccio regali a nessuno. Se oggi è entrato perché se l'è meritato e se l'è ritagliato è perché la partita in quel momento era adatta alle sue caratteristiche. Però detto questo, distratta da fare, ne ha tanta, ma tantissima. De Marche allora era distratto dal mercato? No, sono delle valutazioni in questo momento. De Marche è un giocatore che, vabbè, di che parliamo? La mia fiducia è incondizionata. Poi siamo in un momento di mercato, alcune voci un po' distolgono dall'obiettivo che è quello dell'immediato presente, le gare. Quindi ho fatto una scelta diversa, ma per un fatto di caratteristiche. Grazie, grazie al tecnico Auteri.